E' appena terminata la videoconferenza con il Presidente Consiglio Conte, con il Ministro Boccio e il Ministro Speranza e con gli altri Presidenti delle Regioni. Il Presidente del Consiglio ci ha anticipato che porterà ad ore in Consiglio il nuovo decreto legge per le riaperture e il prossimo DPCM attuativo di questo decreto legge. Ci ha parlato della eliminazione delle autocertificazioni per i movimenti regionali, ci ha parlato dell'utilizzo comunque anche per i movimenti regionali senza autocertificazione, del distanziamento sociale e dei dispositivi personali di protezione, dispositivi individuali di protezione, no per ora e fino al 3 giugno agli spostamenti interregionali. C'è questa data del lunedì 18 maggio che sarebbe la data di riapertura di diverse attività. Si sta pensando ad uno slittamento di una settimana per barri e ristoranti con la possibilità delle Regioni di anticipare tale data. Si lascia ai sindaci la competenza per la chiusura delle aree pubbliche se necessario e i protocolli e le linee guida di riferimento saranno quelli nazionali, quelli dell'INAIL, con possibilità senza derogare principi di base di qualche aggiustamento da parte delle Regioni. Tra qualche minuto mi collegherò sempre in videoconferenza con i Presidenti di Regione perché ragioneremo appunto sul protocolli condivisi e ordinanze eventuali e ordinanze condivise per la riapertura del 18. Vi terrò informati.